Welcome to MiroTV, me so ricordato come se va dopo una settimana, quindi adesso la giornata positiva, sono in compagnia di Peggy Elite, Queen of the Universe, e se vede gli è arrivato l'inverno perché pure Miro c'ha il giacchettino tra me, eh? Evitiamo nuovamente di influenzarci perché questo è anche un buon messaggio che voglio lanciare Mettetevi il giacchetto Ma so che voi state aspettando il nostro commento di SmackDown, torniamo a commentarlo qui su YouTube Abbiamo continuato la nostra storia, no? Su Instagram questa settimana è stata un po' particolare perché commentare il tanto wrestling che c'è in quest'ultimo periodo sui social non è assolutamente facile Per quanto mi riguarda, quanto meno E poi, signori, ci sono stati vari cambi di orario, puntate più lunghe, cose che se sono aggiunte all'ultimo In più siamo stati male proprio questa settimana, sia lui che io, incredibile, con due cose diverse Almeno ci concentriamo tutti insieme, ma adesso siamo qui a parlare di SmackDown Super Size Sì, bravissima XL Ma in che senso? Si ricomincia proprio col botto per una montagna di SmackDown che dura da circa due ore e mezza E dobbiamo partire dall'inizio, perché partiamo così Quindi il gran promo di Gipper, di Edge, la Red Dead Art Superstar Che ha aperto questo episodio importante dello show blu E giustamente Edge è andato a fare il suo grande promo Allora, ci sono stati diversi punti su cui soffermarci, no? Ma tutta roba che alla fine è veritiere e che rispecchia questo andamento che ha questa straordinaria storyline Per me, la storyline è il 2021, ora come ora mi sento ancora di dirlo Però, chi lo sa, poi magari gli ASL fanno la porcata come De Tiena Un po' succede di tutto Però, a parte questo, Edge è andato a finalmente ammettere che Seth Rollins non è un Edge Lite E questo è molto importante Mentre lui ammetteva questa cosa C'era Rollins che stava guardando il promo Dal backstage molto soddisfatto A me sta cosa già mi era piaciuta tantissimo Beh, soddisfatto perché diciamo che Anzi, al principio del promo C'era il fatto che lui ha fatto quello che ha fatto per innervosire Edge Ok? E lo ha fatto perché Edge era incazzato giustamente Nero Perché a me è piaciuta molto la distinzione che ha fatto tra house e home E tu sei entrato a casa mia, nella mia home Non nella mia house Quindi non nei muri e nelle pareti di casa mia Proprio dove io mangio con la mia famiglia Dove vado a mettere, insomma, a letto mia figlia ogni notte Dove piangiamo, ridiamo insieme Quindi un pezzo della mia vita E quello è stato molto emozionante Già visto da qualche parte Ma molto emozionante E giustamente c'era Rollins che era stato compiaciuto di aver colpito profondamente Edge Detto poi da un bastardone come Edge con il discorso Se tu ti ricordi quello che fece pochi anni fa Ma detto ciò, Edge, a proposito di famiglia, dice che vuole terminare questa loro storia a Crown Joel Perché ne va anche della salute delle loro famiglie Che non ne possono più rivedere sti due matti fare tutto ciò che stanno facendo E Edge, sfruttando anche l'alena cell proposto e accettato da Seth Ci è andato a dire alla fine del promo che è pronto a lasciare una cicatrice nell'anima di Seth Freaky Rollins E io ho avuto lo stesso pensiero di Seth Rollins quando poi parleremo del suo promo Ho avuto lo stesso sentimento perché appena la settimana scorsa avevano annunciato quel famoso EO in a cell tra Seth e Edge Io ho subito collegato quello che accadde con tutti i clienti ricordi Mi sono fatto riprendere che loro hanno portato brillantemente on screen perché uno è Edge e l'altro è Seth E si possono permettere di fare certi paragoni Però è bello questo fatto che lui fa la cicatrice nell'anima Non sul corpo, no, proprio nell'anima Lo segna profondamente Bellissimo, bellissimo perché Edge infatti è stato molto logorato dentro da tutta questa storyline con Seth E si è visto, no? Questo promo con la sedia, la luce, lui che a livello attoriale è schizzato alle stelle Già era tanta roba ma è schizzato alle stelle Quando deve fare queste parti di quello arrabbiato, di quello colpito è straordinario Top del top, assolutamente, sono completamente d'accordo con te Ora possiamo parlare del primo match della serata valido per il King of the Ring La semifinale del King of the Ring Sami Zayn in arrabbia a sua dita non ce può proprio annare E questo già lo sapevamo Però era chiamato a fare un buon match contro Finn Balor Che sinceramente parlando non è chissà quale impegno Perché secondo me il Prince è uno dei migliori lottatori del SmackDown Che vogliamo dire a Sami Zayn? Nulla Che infatti a questo match bastava tagli il minutaggio e lo facevano Lo hanno fatto a posto E' stato secondo me un bellissimo match Il mio dubbio era proprio dedicato al fatto Del minutaggio Del minutaggio e di cosa volessero fare Magari se gli avessero concesso soltanto poco minutaggio e una puntatura e mezza E mi sarei arrabbiato Invece mi hanno soddisfatto In maniera anche importante perché come hai detto tu il match è stato davvero ottimo Molto meglio di quello che fecero al ritorno di Balor al SmackDown Dove fu una cosa per addirittura vedere Sami Zayn quasi squosciato da Balor Che doveva tornare in pompa magna Però qui invece Sami Zayn si è giocato bene nelle sue carte Ha evitato anche un accupo fra Ecco per parlare di una cosa che è successa Sì sono stati in molti escape Molti pin che potevano essere Insomma hanno fatto anche degli spot molto interessanti Ora mi mi roda ancora il culo con Balor che sta facendo finta di niente Di quella storia Ma ormai lo devo accantonare Però a me da fan mi roda il culo dentro Quindi ogni volta che vedo Balor c'ho tipo una faccia schifata Ok? Però devo dire che il match è stato bello Quindi non posso dirgli nulla Cioè tutto il resto, tutta la rabbia che io ho È perché non hanno spiegato niente del demone che è caduto E poi va a fare King of the Ring Sami Zayn ti ha confermato però di essere sempre quello interessato No? Alla corona anche durante la sua entrata l'ha fatto capire Durante il match ha provato a fare qualcosa di sporco Per battere questo Finn Balor Ma alla fine se l'è presa lì Nonostante come dicevo prima Era riuscito a scappare la prima Purple Grace di Finn Balor La seconda l'ha presa Uno, due, tre Bello come Balor l'abbia un po' insistito nel suo manovre Gli ha fatto due volte lo shotgun dropkick contro il paletto Perché forse anche lui non si aspettava un semi Zayn Poi tra l'altro un semi Zayn che ci ha provato pure col pino scorretto Insomma era un semi Zayn che voleva passarlo Questo non l'avrei mai detto Ma lo voleva passare con l'animo Poi ovviamente diciamo Tanto non ci vale in arabica Poi lasciami dire questo Vedendo dall'altra parte del tabellone Ciò che ci frearò Finn Balor a me sembra Un candidato importante per la corona Ora Mi incazzerò se diventa Gender male Sì mi incazzerò tantissimo Perché Perché lo fanno cascata la terza corda Cordemone Quindi non gli danno il titolo E gli danno il King of the Ring Vi sputo in un occhio No io ho detto Vi sputo in un occhio Ma può perdere Ma può perdere Ma un eventuale match contro Marla Anche se non passerà Spero che non passerà mai il finale Io gli sputo in un occhio E gli sputo in un occhio Xavier contro Finn Balor Meglio Xavier contro Finn Balor in finale Può raccontare qualcosa di particolare? Da ambe due parti Io sputo in un occhio Ai Booger e a filmare lo stesso Se vince il suo torneo E lo vince Perché lo vince Ma io gli sputo perché è terribile Quello che hanno raccontato è terribile Parleremo del torneo femminile dopo Ok voglio prendermi una pausa su questo Ma dobbiamo sempre parlare delle donne Perché dopo abbiamo visto Naomi Contro Sonya Deville E lì io continuo a dire Che la storyline Sta funzionando Poi lì come la storyline Siamo sempre nell'ambito Un po' piacerti o non piacerti Ma è un riempitivo Che deve essere anche un po' funzionale Alla narrazione dei personaggi Sì esatto Se Sonya Deville Avesse combattuto Un match di wrestling Contro Naomi Avrebbe Ma così subito Buttato al vento Il suo Il suo personaggio Gli ultimi tempi Che secondo me Sonya Deville Sta funzionando davvero bene Commentiamo SmackDown Praticamente ogni settimana E mi ritrovo sempre a fare discorsi Molto Molto positivi E però Vedere Sonya Deville Entrare tra l'altro Tutta vestita in uniforme Da Come si dice Da ufficiale Mi ha fatto sorrire E ha detto Oh qua riprendi I discorsi che facevamo noi Sicuramente combatterà Invece Ci ha un po' sorpreso Dicendosi che ha trovato Un'alleata Un'alleata Sì no Nel senso Io ho storto un pochino il naso Quando avevano annunciato Sto match Perché era stato fatto un po' Sì finalmente Fai i tuoi match Contro di me A SmackDown Prostico Ho detto boh potevano gestirlo un po' meglio Perché stavano raccontando qualcosa di bello Alla fine hanno raccontato che Hanno tirato fuori un handicap Ho detto sì Ti ho detto che No mi ti ho detto che io Ti affronterò Questo A questo SmackDown Ma non ti ho detto che sarò in compagnia di Shaina Il segmento non è stato proprio Bellissimo Il match è stato Il match tra virgolette Non è stato Bellissimo Ma Naomi ci ha provato A me è piaciuto questo Sì ci ha provato Perché Naomi pure lei Ora qua io mi trovo sempre a fare complimenti Sì che è stata bloccata E ha trovato il modo di Ha fatto anche il Beautiful Disaster Come direbbe con Cody Rhodes Però ci sta che lei non abbia per forza Preso subito le botte E si fosse stata schienata subito Perché ci sta che lei riesca comunque Essere aggressiva Che le roda un po' Il sederino Per tutto quello Esatto esatto Ci hanno comunque raccontato Di una Naomi che le roda il culo Perché non riesce a fare Questo primo match Ok E quindi ce la devono far vedere Ora che l'ha trovato Tutto il malo ha funzionato L'aveva trovato Due contro uno Ci ha provato Ma ragazzi Quella era in due Poi c'è Shana Beser Che è sotto e via Diventa molto distruttiva Soprattutto in questo periodo Poi è anche molto funzionata La storia Perché Shana Beser È stata draftata a SmackDown Ma sarà regolare questa cosa Soltanto dopo Crown Jewel La WWE sta facendo un po' Come i cazzo gli pare Con le sue stesse regole Ma oramai non sono più sorpreso Non sono più sorpreso di nulla Però devo dire Che come roba ha funzionato Con Shana Beser Che ha strozzato Con la sua finisher Naomi Poi l'ha lasciata lì In consegnazione di Ville Che ha appoggiato il suo stivaletto Sul corpo distrutto De Naomi Uno Due Tre E giustamente il match Finisce lì Io ragazzi Se avessi fatto kick out Naomi Uno si riega Un cazzo stanno a fare Perché quello Io più deve verlo Come un match Mi sembra un segmento Prolungato Per farmi andare avanti La storyline Io mi prendo un segmento Prolungato Che tra l'altro Mi è piaciuto Se si pensa nell'ottica Dei personaggi Secondo me Hanno messo una pezza A quello che hanno fatto Settimana scorsa Che a me non era piaciuto Quindi annunciare questo match Però alla fine T'hanno fatto il trollino Che dici Ma in realtà Sonia Vanno avanti Io credevo veramente Che Sonia Non avrebbe combattuto Sto Ma io invece no Io credevo Che facevano un match E via A me mi hanno sorpreso Per qualcuno ha combattuto Ma prima Mi hanno sorpreso Non faccio i salti De gioia Perché non faccio niente De che Però me lo prendo Hanno fatto bene Seth Rollins Torniamo a parlare Dei promo Che hanno fatto Edge e Seth Anche in questo episodio Ovviamente a distanza Non stanno nelle collisioni Ovviamente anche un parolone Perché uno si poteva anche Aspettare Un nuovo fight Tra i due Ma hanno usato Un po' La testa Non meniamo Di tanto Grand Jove Settimana prossima Prima anche Della prossima Punta Anche perché Seth Rollins Edge Fanno più ascolti E più intrattenimento Quando hanno il microfono In mano Che fa la rissa Che poi lo fa tutti Che fanno già fatta La rissa la vogliono Tutti quanti Ne hanno fatte tante Ma quante storie Ne sono andate avanti A risse Sul risse Sul risse Sul risse Siccome questi due Con il microfono Ci saranno Ma dammi gli 20 minuti A testa appuntata Va benissimo Seth Si è detto Molto compiaciuto Già ce l'aveva fatto capire Durante il promo Di Edge Ma si è detto Anche compiaciuto Che finalmente Edge ha ammesso Che lui non è Un Edge Lite E sta cosa Finalmente è un po' Riempito Anche di soddisfazione Settrollins Ma questo non è Che voleva dire Che ora qua Seth Dice no Ben Ti affordo più Perché hai detto sta cosa Perché comunque vada Seth ce l'ha ancora Qui Edge Ma soprattutto Lui si è soffermato Su sta stipulazione Edge non l'ha fatto tantissimo Rollins lo fa E perché l'ha andato a fare Perché Seth Rollins Almeno quello che ha detto lui Ha passato dentro Quella struttura infernale Molto più tempo di Edge Anche se su questo Io vorrei vedere Perché io mi ricordo Un Edge contro Andet Che dove se ne viede Ho resanta ragione Ma io penso Che il discorso di Seth Sia stato molto più profondo Di tutta questa discussione qua Perché Seth All'interno Della gabbia Ha perso la sua anima Secondo me A livello narrativo No Lì contro The Fiend A prescindere che sia stata Una porcata Il finale Sia stata porcata La gestione Però Quello che ci hanno raccontato È che Edge Una volta uscito da quella gabbia Scusate che Seth Una volta uscito da quella gabbia Non era più Il Rollins Amato dal pubblico Era tutt'altro Tipo The Seth Completamente impazzito E lui stesso L'ho andato a dire Questo è stato molto bello Facendo capire come L'Aline Nassale Lo abbia logorato dentro E per questo Non ha più paura Di affrontare le sfide All'interno di quella gabbia Che sia contro Edge Che sia contro qualunque Altra persona E lo si è capito Mi è piaciuto molto Questo discorso Sì Anche a me Mi è piaciuto come Seth Si è andato a riprendere Il famoso Criticatissimo Il Nassale Con Fiend Comunque c'era Fiend Quindi alcuni riferimenti A Fiend Che cambia le persone Sappiamo che Seth Non gli va giù Il fatto di aver fatto Quelle Nassale In quel modo Perché non ha mai nascosto Che gli faceva cacare Pure a lui Come era stato scritto E neanche Bray Wyatt Ha nascosto Nessuno l'ha nascosto Loro stessi Ci hanno detto Di fare una cacata E secondo me Come dissi già Qualche settimana fa Questo sarà L'Elinassale Che servirà A Rollins Per placare Quella rabbia Che lui ancora Ha Dell'Elinassale Con Fiend Perché secondo me È proprio Gli ero del culo Deve aver fatto Quello No no L'ha messo proprio E quindi dice Con questo Placcherà anche L'anima Del rodimento di culo Di Fiend Mi piace E poi Non mi aspettavo Che portassero Uno screen così Riferimenti a Fiend Ma allora Anche se Rollins Ha provato A mettere più in ombra Possibile Chi affrontò In quel famoso L'Elinassale Dicendo che Quella struttura L'allocurale dentro Ma è chiaro Che riferimenti fossero Alla contesa Contro le Fiend Che lui stesso Ha detto L'ha cambiato Da così A così Ed è tutto quanto vero Perché se abbiamo Questo set O quel set Di settimana scorsa Che sia È proprio per colpa Di quel match Quel famosissimo match E ora A me Lui è piaciuto Anche Di voler far capire Un'altra cosa Che cicatrizzare L'anima di set Oramai è impossibile Con l'anima di set Perché è già stato fatto Quindi le cose Secondo set Non andranno Come ha detto Edge Andranno in un altro modo E sto curioso Di capire Dove si vogliono Parare con sta storia Perché potrebbe Contenere davvero Tantissimo contenuto Tantissimo Anche perché Ripeto Siamo in un L in a sell Non è che può fare Double count out Lì abbiamo Aspetta Che Lì abbiamo Però Però Se deve essere L'L in a sell Per fuck Plagare L'animo De Rollins Per quella Che Devono fare Nell in a sell Normale Con le regole Normale No che si sponda No che si apre No che finisce Per double count out No che finisce Per squalifica Ok Se succede Io metto così Con Rollins Perché chi ha Poi al contratto Lo straccia Non sa dove va Perché lui Non sta andando Volevo citare Però Zappa Ci fa fa culo Volevo citare un meme Che ho letto oggi Non farò mai più Nell in a sell Però Non lo cito Detto ciò Andiamo a parlare Di un altro match Una cosa che a Peoni Ha piaciuto Avvero tanto Me l'ha detto Ovviamente Off camera Avvero la semifinale Del Queen Crown Tournament Io mi chiedo Perché cazzo Di quando faccio Sto Queen Crown Perché le donne Che ci stanno Intorno Sembrava una Più deficiente Dell'altra È stato terribile Il torneo femminile È stato terribile Il torneo È stato terribile Non ne hanno azzeccata Una Era meglio Che non lo facessero Cioè Vanno fa Tutte ste cose E i titoli di coppia Femminili E poi li trattano In merda E fanno Il torneo Femminile Per qui Per la corona E poi le trattano di merda Non le fate Allora Ste cose Le manine Al culo Mettetevele Non le fate Perché non state A dare valore alle donne Cioè Uno pensa Che vogliono dare valore alle donne E poi Gli fanno fare Di merce di merda Di segmenti di merda Non costruiscono Non costruiscono niente Lasciate stare Lasciate Stare Vi prego Fatta sta promessa Io voglio spezzare Una lancia in favore Di Carmela E Zina Vega Che si sono trovati In un momento Storico Brutale Dove loro dovevano cercare Di attirare l'attenzione Del pubblico Cercando di essere Se stesse Cosa che però Se tu dici Chi cazzo tifi tra le due Perché ce l'hanno presentate Come il Una non si può ascoltare Perché urla sempre Ripete sempre La frase L'altra È abbastanza Anonima Se no in queste settimane Dove dici Dovete diventare La regina La reina Ti fa il balletto Indica Però non è che Tifi Zalina Vega Quindi Loro si ritrovano a fare Un match Quasi dove ho detto No nessuna scorrettezza Dimostriamo il nostro valore Questa è una cosa Che avevano stabilito Prima della contesa Effettivamente I primi due minuti Vanno così Con Zalina e Carmela Che sono una lettura Rispettarsi In un livello narrativo Importante Perché tutto ciò Se pare quasi Che avevano avuto Una chissà quale Alleanza Stasinesi Pare che sono 8-9 mesi insieme Quando in verità Hanno fatto Comunella Come si dice qua Soltanto per un paio di settimane In maniera anche Obbligatoria A parte questo De punto in bianco Cioè Carmela Obbligatoria forzata Senza senso Sì Assoluto Vuoi usare un sacco di aggettivi Completamente d'accordo Con te Improvvisamente Carmela Tira fuori La vera io No Quella bastardona Che è E prova Andando a sbattere La faccia Di Zarina Vega Contro Il Tormacol Mi pare A un certo punto Prova a fare Comunque una scorrettezza Lì Zarina Vega Dice Come Avevamo detto Così Impazzisce Zarina Vega E è stata brava Zarina Vega A enfatizzare Tutto quanto Tant'è che il pubblico Un minimo di reazione L'ha avuta Perché io ci tengo A sottolinearlo questo Quando c'è un minimo di reazione Significa che Qualcosa Quanto meno Ha funzionato La recitazione Ha funzionato A livello di recitazione Zarina Vega Che era rimasta Come ho detto così Stava a fare così Ora tu fai così Allora io adesso te meno E lì è ovvio Che il pubblico Che magari casuale La esulta Ed è giusto così Quindi Quello Voglio dargli un'altra Però ragazzi Carmela A quel punto Dice No ridatemi Datemi la maschera Perché adesso mi serve Questa è impazzita Della maschera Arriva Lì Morgan Arriva Lì Morgan A Bordoring Facendoci notare Che lei stessa Ha la maschera Di Carmela Ciò mi fa molto pensare Che sta storilando La vedremo ancora a Ro E non so Se riuscirò A commentarla Tu non lo commenti Lo quindi Bicchia I brividi I brividi Lì quindi Carmela Una volta Che è riuscito a ring Si trova lì davanti Fugge Ritorna sul quadrato Zina Vega Scuola proprio Davide Aluini Viene da dire Gli ultimi tempi Va a Va a tirar fuori La miglior manovra Gli ultimi anni Ovvero La culla La culla Eccezionale Uno Due Tre Ma come fai A fuggire La culla Eccezionale Zina Vega Va in finale Va In rabbia E cercherà Di prendersi La Corona Penso Contro Cianabese A me Già faré Tutta sta storia Ma più che altro È che Le parole Che tu hai detto Per descrivere Questo mer Sono durate di più Del merc In secco Sì vabbè Io perché sono un po' Vergognoso Il torneo Se lo dovete Fa così Non fate Non Penso che Tu non debba giuggiare Ti farei parlare più Dell'Happy Talk Dell'Happy Talk Con Il buon Happy Corbin E Markup Moss Che oramai Si sente proprio Un barzelliere nato Mamma mia Un po' A parte chi ride Alle sue barzellette Non so come possa essere Chiamata Però C'è da dire Che stasettimana Dovevano fare Un qualcosa di diverso Perché sono Quasi Quanto è Un mese Che fanno sempre Questo segmento Dove esce E se lo revistano Qui invece Hanno voluto fare Un qualcosa di diverso Anche se loro Sempre lì stiamo Anche se loro Erano intenzionati A far tornare Kevin Owens E mazzolato Perché diciamoci la verità C'è ancora questo fatto Di Corbin E Moss Che prendono in giro Kevin Owens Mostrano anche Le immagini Di qua e là La barzelletta De Moss Per chiare in giro Kevin Corbin Se la ride Haha Unde chissà Quando arriva nuovamente Kevin Owens Invece no Gli suona la team De chi veo De si proprio No No De books Prima De Nagamura Perché books Poi arriva nei street profit Se far match Dei street profit Quanto cosa Perché avete fatto L'happy talk Cioè a che cazzo serviva Ma per far capire Che i rovers A che cazzo serviva Questo giro Io che difendo L'happy talk E piccolo Ti dico di no Perché non serviva Un cazzo Non serviva Un cazzo Minutaggio buttato Perché è stato Orribile È stato orribile Allora mi riproponete Lo sempre Il solito Spot De quello che arriva E lo pistano Ma cioè Sto giro No Io penso che Abbiamo voluto lasciare Un dubbio A fine puntata Non è che ora Corbin Ma poi non è pure Trattato Corbin No Sì Io penso che Abbiamo voluto lasciare Abbiamo voluto lasciare Il dubbio Per un Corbin Nakamura Viltito intercontinentale Con i loro manager Che potrebbero rivestire Però non è stato gestito In virtù di questo Perché Corbin E Moss Erano sì sorpresi Ma non hanno fatto niente Per fermare Nakamura E Books Che erano andati lì A fare il solito segmento Compact Al tavolo di commento Non c'era Sì cioè L'ho trovato molto inutile Cioè arrivano tutti Ti aspetti Che insomma Prenda in giro qualcuno Perché è di Dio Però poi non succede niente È quello che a me Non è piaciuto Che non è successo niente Dici va bene Ti vogliono far Mettere il dubbio Nakamura Corbin Questo è il mio pensiero Ok Ok Perfetto Però non c'è stato Neanche uno sguardo Tra di loro Cioè è arrivato Books a interrompere È arrivato Nakamura Che è andato Da pad Non si sono proprio guardati Cioè Messo lì a cazzo De cane Per questo giro Non mi è piaciuto Sì appare Sono abbastanza d'accordo Anche se poi I Street Profits Hanno fatto la loro entrata Hanno aspettato Usos Per fare Questo Street Fight Tactic Match Valido periodo di ricoppia Possiamo qua Stare per rompere le palle 200 volte Con il discorso Che questi Si sono affrontati 8000 volte I diritti di ricoppia Non sono mai Va bene così ragazzi Perché è stato davvero Un grandissimo match Quello tra I Street Profits E Usos A volte da loro Si aspettano soltanto L'aspetto qualità Visto ciò Che sono sul quadrato Qua avendo messo Una stipulazione Con lo Street Fight Potevano fare altro L'hanno fatto E devo dire Che la brutalità Proposta da ambe due Le fazioni Ambe due team A me è piaciuta davvero tanto Bravi 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 Tanto notaggio Begli spot Tanti strumenti utilizzati Bello L'utilizzo appunto Degli strumenti Poi c'è stata La citazione Get the table Le sono morta Non me l'aspettavo Così a cazzo dei cane E no Mi sono divertita tantissimo E hanno vinto Gli Usos E va bene Cioè Però Per me va bene Dopo che mi vedo Un match così Per me Che è un po' Il popione degli ultimi tempi Gli Usos Sono sempre la meglio Sui Street Profits Che sembrano essere Sempre capaci Di prendersi Quei titoli Di fatti Pure sto match Ok Non cerchiamo di ragionare Sul fatto che Street Profits Siano stati draftati a row Mi prendo un attimo Il match All'analizzo C'è stato un momento Importante Della contesa Dove Gli Usos Erano finiti vittime Un po' Dei Street Profits Le loro erurezza Tant'è che Gli stessi Street Profits Nonostante fossero Faze Perché questi lo sono Sicuramente All'inizio Sono una serie Di strumenti Per poi arrivare A fare la loro Combinazione finale Ovvero La Spine Buster Di Angelo Dawkins E la Super Splash Di Montesford E uno dice Cazzo Ci può stare Come finale Perché quell'altro Sembra morto Dei Usos Invece Era arrivato lì A salvare il fratello Nonostante tutto Che lì Se non fosse arrivato Il fratello Poteva finire Con tre Mi è piaciuto Leggerla così Perché quando Si creano cose belle Con una certa Logica Con una certa voglia Di stupire la platea Con spot Che magari Non ti aspetti Perché questo match Ha avuto davvero Momenti importanti Nonostante questi Si siano già affrontati Tantissime volte E non è da tutti Non è da tutti Quindi Io gli ho fatto i complimenti Nuovamente a questi due team E il finale Però È perfetto Secondo me è perfetto Per tutte e due le fazioni Perché Quel povero Angelo Dawkins Che è stato preso A colpi De Superkick E DeFrox Non te poteva Far kick out Dopo anche Tanti minuti Di match brutale Insomma Ci sa che sia finito Così pulito Ripeto Mi ricito Dopo un match Del genere Bello così Per me Potevano vincere Tutte e due Potevano incredibilmente Vincere gli Street Profits Dopo quella combinazione Che ho detto Però Ma hanno mantenuto Gli Usos Vincono sempre gli Usos Gli Street Profits E perdono sempre Va bene Cioè mi hanno fatto Un match della madonna Va bene qualsiasi cosa Ora aspetto I Vecchi Raiders Gli Usos Curioso di vedere Se avremo davvero Questa contesa Ma mi sembrano perfetti Per questi Campioni di coppia Che ci sono a SmackDown Mi frisco Mentre i Vecchi Raiders Mi sembrano perfetti Per affrontare Questi campioni di coppia A SmackDown E figuratevi Se i Vecchi Raiders Gli metti anche Una stipulazione speciale E loro che sono Completamente diversi Dai Street Profits Quanta altra roba Possono porti Interessante Quindi Bello Sono molto tranquilla Su questo lato Se te do per dire la verità Assolutamente Sono d'accordo con te Detto ciò Però Dobbiamo andare avanti Secondo me Adesso parleremo Davvero del match Della serata Non so se dire Match della settimana Perché qua bisogna Ripanizzare sempre 3.000 cose Botto di lottato In questo SmackDown Sono impazziti Ogni tanto Gli piega febbre E i bucchere Di 1 2 ore e mezza Famoli lottato Io ogni volta Rimango qui Non è possibile Che due match Defila così E poi ce n'è pure Un terzo Incredibile Assurdo Assurdo Sasha Banks Contro Becky Lynch Un match Che sulla carta Si presentava con Ah vabbè Tanto andrà qualcuno Nel tavolo di commento E interverrà Detto ciò Ci confermano subito Nel tavolo di commento Ci va Bianca Belair Strano Però non ci hanno Confermato la seconda parte Ora analizziamo Un attimo La contesa Perché match Secondo me Della settimana Del mese Quello che cazzola Di fare Perché c'è stata Un'intensità clamorosa Che attualmente Secondo me Pro wrestling femminile Le hanno soltanto in quattro Mi dispiace Tirare fuori Bianca Ma Charlotte Becky Sasha Bayley Si conoscono ancora Così fortunamente bene Da non poter pensare Di superare i loro standard Soprattutto a lungo termine Io mi auguravo Che l'immagine Che avevamo vista NXT Qualche mese fa Con Rhea Bianca Raquel Gonzales Fosse un qualcosa De simile Però faccio ancora fatica A pensare Che quelle tre Ci voglio includere Ma anche Un Yoshirai Che secondo me Una delle migliori Ottatrici al mondo Possano essere Role importanti Come queste quattro qua Perché ancora una volta Te l'hanno dimostrato Hanno un'alchimia WWE E quindi non possono L'una contro l'altra Dare poco Cioè non si possono Permettere Sasha Bayley Bianca Sasha Bayley Becky Charlotte Non si possono Permettere Tra di loro Di non dare 100% E poi qua Si vede Nei loro match La voglia di essere La migliora Delle quattro È quello Perché se danno poco Se danno poco Vanno Al di sotto Di queste quattro E non se lo fanno Permettere Quindi quando si Intersegano tra di loro Devono da tutto Perché Devono dimostrare Di quelle quattro Delle migliori Deve essere La migliore E quindi se vede Se sente l'intensità Se sente la voglia Di dimostrare Che loro Dove farle così Becky Per fare questo Arriva anche a fare Un po' Delle cose sleali Appoggia i stivaletti Su Sulle corde Per darsi più slancio Durante le cule Durante i pimple Ma allora dirò la nota Sasha Per quanto si ritrova Un po' Incazzata Di tutto bianco Con Becky La insegue fuori Da ringue Le va a fare La bank E lì Becky Lynch Cede Ma fuori dal quadrato Non conta La sottomissione Sottotutto in un single match Quindi quel Quel fatto di vedere Becky cedere Conta relativamente Sasha pensa che Becky sia quasi K.O. Quindi che fa La rialza Il butto a su ring E la bank E gli fa la proxplash Ma Becky Lynch Fa il kick out A due e mezzo E lì vediamo Una Sasha un po' Esasperata Con la voglia di Tirare fuori Alte prestazioni Una Sasha che aveva Anche abbastanza sofferto In questa contesa Eh se le sono date tante Però Dopo quel momento Lì ci faceva credere Che in qualche modo Avrebbe ripuntato Sulla back statement E così è stato Ma ancora una volta Becky Lynch Lei era sfuggita via A livello narrativo Era stato perfetto Perché Becky Sfruttando anche Il suo personaggio Che stava oramai Come trovare sempre In escape Si era appionata Al paletto Lì risulta efficace Il ruolo di Bianca Che posso dire Che è stata forse L'unica pecca Questa è tutto Supercio Perché sinceramente Bello Bianca che arriva E schiaffeggia Colpisce con la coda De Becky Che era fuori Da ringa Al pianeta La scala Carina Questa cosa Però poi La razione Di Becky Sì Che cosa hai fatto E poi si fa fregare Mio dio Ti ha dato Una frustatina Sulla mano Cioè non ha neanche Sellato il dolore La guardavo Come dire Che cosa hai fatto Io l'ho voluto leggere Come una cosa Che l'ha fatta Deconcentrare L'ha fatta uscire Dall'intensità Della contesa Che stava avendo Con Sasha E lì La stessa Sasha Ne ha approfittato Colpendo le spalle Beggy Con la backstaber Uno Due Tre Beggy era Completamente uscita Dalla grandissima contesa Che stava facendo Con Sasha E lei La boss Ne ha approfittato Per quello Mi dispiace Perché è una contesa Della madonna Però forse Se sono persi Sul finale Dovevano comunque In qualche modo Proteggere Beg Quindi farla Perdere Ma con qualcosa Però l'ho trovata Così stupida E banale Il fatto Della stagione La mano Io penso Che non potessero Farla perdere Diversamente In maniera netta Perché poi Alla fine di tutto Ha preso comunque La big statement Uno Non è che ha fatto Una culla No 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 Però boh Magari una scusa Un peletto più Milo Cioè nonostante Non boccio il match Perché è stata tanta roba E pure è vero Che Bianca Che Bianca e Beggy Si vedranno roba Quindi ci sta ancora Di più Sta cosa che è accaduta Secondo me Ragazzi Parliamo nel 2021 Nel 17 Ottobre Stiamo parlando Della sconfitta De Beggy Lynch Dopo due anni e mezzo In un match in singolo Ma sconfitta In maniera netta Ed è importante Secondo me Molto importante Wow Sono contento Che l'abbia avuto Sasha Banks Che tra le quattro È quella che a volte Fatica di più Non tanto per lei Ma perché c'ha Sti momenti di pausa Che uno si chiede Sì esatto Dove cazzo L'ha finito Sasha L'ha finito Sasha Poi è ovvio Che il suo personaggio Perde un po' D'igualità Rispetto alle altre Che stanno sempre Al top Detto ciò Mene niente Vero e proprio Anche se mi ha fatto Molto ridi Da rampirsi Che una volta Che figlio il match Tra Sasha e Beggy Vero gli ho detto Ragazzi Ragazzi sì Via Ciao Che tocca monta al tavolo Mettete al tavolo A me ha dato fastidio Quella roba A me ha dato incredibilmente Fastidio C'è cazzo C'è comunque La campionista di SmackDown Via via Che devi mettere al tavolo Oh Fossi stata a Beggy Mi sarei girata Ma io infatti Non mi aspettavo Dalle altre Ma da Beggy Mi sarei aspettata E invece l'ha fatto un cazzo Era troppo scioccata Ma soprattutto Lì era da Ampears Soprattutto Lì era È rimasta proprio scioccata Lei era rimasta Sì Si è seduta su Levron Sì Su sta sconfitta Che pare di averla Un po' lucurata dentro Però gli avrei dato un pizzone Cioè che cazzo Il leve del leve Deve arriva al tavolo Oh Ad Ampears Ho sentito Secondo me un po' Il fiato sul collo Di Brock Lesnar Cioè sta pagate a qua Ditto ciò Sono entrati Il treble chief Roman Reigns Con Paul Lehmann Ne sue spalle E Brock Lesnar Per fare la firma Del contratto In vista dei Crown Jewel Beo Io Sono molto sorpreso Da sto segmento E Non so te Io penso sia stato Davvero geniale Tutto quello che abbiamo visto Che cosa hanno dato A Lesnar Che gli è successo A Lesnar Quello va a confermare Quello che ti ho sempre detto È stato Un pasticcino Lesnar Cioè Quella nota dolce Che ti ha fatto Godere ancora di più Un'ottima puntata Perché è stato Un'ottima puntata Assuramente Ma ha dato Quello Che tu hai finito Di vedere Sbagliare E stavi così Che stavi col sorrisetto Compiaciuto Sì Perché c'è questo C'è questo Roman Reigns Che mantiene sempre Un po' Il suo personaggio Quello che poi Vuole far vedere Di essere molto intelligente Di essere il troubleshift Quello che trascina tutti Perché lui è Roman Reigns E di fatti Quando si ritrova il contratto De fronte Si mette un po' A leggerlo De qua Nonostante Paul Heyman Avesse detto Guarda Questo tuo contratto Roman A parte che Evita la penna De Dan Pearson Questa è una cosa Che già ha fatto Il passato Si fa passare la penna De Paul Heyman Firma sto contratto E poi Tu vedi che lo poggi lì E lì è lo stesso È lo stesso Dan Pearson Afferrare il contratto E passarlo A Brock Lesnar Lesnar non guarda mai Il contratto Lesnar si mette a guardare Altrove Invita la pizza Da Yavin Fa una firma Su quel foglio Ma proprio così Extralarge La firma di Brock Lesnar Pirzo gli fa Ma che cazzo stai facendo Ma il caso Non gli ha detto Però la faccio Cosa fa Leggi Brock passa Il contratto A Dan Pearson E lì Reigns dice Ma sei proprio Un peolo Stupido Dino proprio pesante Perché lui ha usato Termini molto Cerca di perculare Roman Reigns Cerca di perculare Lesnar Si dice Ma che non firmi I contratti Non li leggi Non leggi I contratti Che firmi Sei proprio uno stupido Per non dir quello E lì per lì Sembrava Cioè Nella serie Nel contratto Ci può essere scritto Qualsiasi cosa E tu hai firmato E invece poi Lesnar Tira fuori Il posticino Dice No ma io Il contratto L'ho già letto Stamattina Col mio avvocato Brock Lesnar No raga No Io tipo Siamo così No Non è possibile Bellissimo Roman Reigns Bellissimo Spalanca gli occhi Con Lesnar Perché se ne va Tranquillamente Dopo aver dato Questa bomba Importantissima Che ha fatto esplodere Anche l'arena Io sono rimasto Davvero Interdetto A dir poco Perché Lesnar L'ha fatto Questo segmento Con una facilità Disarmante Che va a confermare Che va a confermare Per la trecentesima volta Qualora fosse bisogno Che Lesnar Se non fosse Stato in questi anni Sempre nel giro mondiale Sarebbe stato Molto più apprezzato Da tutti quanti Perché questo È uno che gli bastano Tre Tre parole E due fatti Per essere Straturamente Straturamente Stavolta Ormai L'ha detta Chi sta vicino A Paul Per essere Fortunatamente Interessante Questo block Mi è piaciuto Tantissimo Questo episodio Vediamo un po' Che succederà La settimana prossima A Crown Giurle Vi invitiamo A seguirlo con noi Il live reaction Che stavolta E poi sarà alle 5 Alle 7 Quando è Per me sarà alle 7 Alle 7 Bellissimo Bellissimo Adoro Vediamo la pizza pure Detto ciò Fateci sapere la vostra Qui sotto nei commenti Come al solito Spolliciate Commentare Condividete Iscrivetevi ai canali Qui sotto in descrizione Trovate un link A tutte le pagine Instagram che ci supportano Ma anche Dei canali Depeo Sua piattaforma viola Tutto quello che vi pare E quindi Proprio da lei Pianjillit Queen of the universe E da Milo a tutto Ciao sweet